Ma adesso, accomodati pure, Gian Piero, voglio fare questa dedica con un pezzo bellissimo di Peppino Gagliardi, pezzo del 1972. So che oggi pomeriggio c'è la famiglia di Gagliardi collegata con Bella Mai, vogliamo omaggiare ovviamente la sua memoria, nato nel 1940 e scomparso nel 2023. Per farlo abbiamo scelto due coppie, per la generazione Z ci sono Frank Sepe, Frank e Roxy, Roxy vieni al centro della scena, accomodatevi lì. Per la generazione Boomer ci sono Enzo Saturni insieme a Maria, eccoli qua, guardate che coppia. Il pezzo è meraviglioso, non manca molto all'inizio della primavera, e Peppino Gagliardi ce lo ricorda con uno dei lenti più struggenti che si possono dedicare a un amore perduto. Ma se il lungo inverno ci priva della luce, la primavera ritorna e con lei gli amori che a volte rifioriscono come le viole. 1972, come le viole, due generazioni a confronto nel ballo, Peppino Gagliardi. Musica! Son tornate le viole qua giù, Ma non hanno colore per me Quella calda tenerezza che tu Portavi nei tuoi occhi No, non c'è più Come le viole anche tu ritornerai La primavera con te La primavera con te Riporterà a te Avevi la mia vita Avevi la mia vita Tra le tue braccia Te ne sei andata Te ne sei andata Non so Te ne sei andata Con chi Tra i sogni miei Forse domani chissà Tu piangerai Quando il mio amore Quando il mio amore lo so Capirà Tu rifioriranno tant' Primavera Come le viole anche tu ritornerai 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 Mi fioriranno tant' Primavera Come le viole anche tu ritornerai Mi fioriranno tant' Primavera Primavera Come le viole anche tu ritornerai Come le viole anche tu ritornerai Come le viole anche tu ritornerai Z e della generazione Buma